Corso San Lazzaro, Viale Verona, zone calde di Vicenza Ovest che hanno visto uno schieramento di 30 uomini della finanza vicentina e agenti della polizia locale impegnati in una maxi operazione antidroga con il supporto delle unità cinofile dell'elicottero. Attenzionati anche alcuni immobili per il blitz che ha portato all'identificazione in totale di più di una cinquantina di soggetti presenti all'interno degli appartamenti controllati. Al sequestro di oltre 12 grammi di cocaina, tre di hashish, 12 di marijuana già pronta per essere venduta in strada destinata alle piazze cittadine e al sequestro di 1900 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Due coltelli, un bilancino di precisione e quasi un migliaio di articoli per confezionare le dosi. Fondamentale per l'attività investigativa è stata l'analisi dei filmati di videosorveglianza. Ha portato a una serie di interventi in due palazzine del centro in cui è stato sottoposto a sequestro diverse sostanze stupefacenti, nonché si è giunti all'arresto di un soggetto di origini nordafricane per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Peraltro lo stesso soggetto risultava destinatario di un provvedimento di divieto di dimora emesso dalla locale autorità giudiziaria e in quanto tale risultava violato e pertanto sarà oggetto di un'ulteriore segnalazione alla locale autorità giudiziaria. Denunciato anche un secondo soggetto per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e un terzo segnalato alla prefettura. Le condizioni degli appartamenti sottoposti a controllo non erano adeguati a quelle che sono le misure igienico-sanitarie previste, peraltro il numero di occupanti era superiore a quello comunicato e previsto negli atti degli appartamenti.